Ebbene sì, abbiamo appena trovato una mappa che aggiunge la casa di Michael su Gmod E ci faremo un nascondino dove avremo anche la possibilità di fare parkour Quindi di nasconderci anche sopra il tetto eccetera eccetera Sarà un episodio epico senza dubbio E ragazzi, come va? Io sono Pieriniki E oggi siamo qui con un nuovo episodio del nascondino E come avete appena visto, oggi giocheremo nella casa di Michael Faccio un breve tour per far vedere quanto è perfetta È bella, l'hanno fatta benissimo L'hanno riprodotta la dio, c'è pure il campo da tennis per intenderci Non si sono dimenticati nulla, guardate anche qui dietro c'è la piscina È tutto perfetto, anche gli interni sono fatti davvero bene Questa mappa è spettacolare e quindi abbiamo deciso ovviamente di farci un bel nascondino Inizio io a nascondermi? Sì dai, già che sei in giro inizia tu Vado qui all'ingresso, nel cancello mi metto a guardare la siepe e tu ti puoi nascondere Perfetto, allora, allora, allora Io voglio subito testare una cosa per capire se fa Giusto per toglierci un bel dubbio Provando cose strane No Fede, tranquilla, tranquilla Non sto provando nulla di strano Che stai facendo? Non so cosa stai facendo Quindi è inutile che mi fai queste voci, capito? Consolini direi che no, 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 no Però secondo me fa ad utilizzarlo in altri momenti Allora, per adesso cerchiamo qualcos'altro Fede dammi ancora un pochettino di tempo che essendo il primo round devo un po' esplorare No, no, vai, 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 anche perché bisogna abbientarsi, trovare i nascondigli migliori Esatto Vai tranquillo, vai tranquillo Esatto, esatto, esatto Io nel frattempo mi bevo la mia medicina, Steph Ho mal di pancia oggi, Steph, mi sta facendo aspettare una vita Per me la mia medicina, grazie, Steph Beh, figurati, ti do anche il tempo di... Sì, la possibilità di finire la mia medicina, ok, vai Ok, dai Hai fatto? Sì, puoi andare Ok Pronto? Sì Perché non mi sembri convinto dalla voce, vado? Convintissimo Ok, cos'è combinato? Sei appeso da qualche parte strano, ho già capito Ho già capito Più o meno, dipende dai punti di vista Dipende dai punti di vista Vediamo se riesco a fare questa cosa Io nel frattempo sto trovando tutte le porte che tu hai lasciato aperte Quindi potrebbero essere dei belli indizi per capire un po' dove sei finito, insomma Ok Ci posso riuscire, ci posso riuscire Prince of Persia Prince of Persia Che stai combinando, Steph? Niente Ok, ok, ok Hai cambiato il tuo nascondiglio, scusami Sì, perché prima praticamente, quando io stavo ridendo È perché anche con Jack Sparrow ero riuscito ad andare sottoterra come con Mustaccio Ok Quindi Come? Come? Non lo so Non lo so ma ci sono riuscito Non è possibile? Ho trovato doveroso quindi cambiare il mio nascondiglio E quindi adesso mi sono spostato un pochettino Ok Quindi ti dico che ero anche fuori Ok, però adesso non puoi sapere se sono fuori o dentro Ti vedo in difficoltà quindi primo indizio Sono fuori e non sono dentro casa Ah, ok Io sto guardando addirittura nei balconi che non ci sta mai Ci sta, è un buon tentativo comunque Sai potrei essere anche lì in qualche modo Vabbè certo, certo Però comunque sì, sono all'esterno Quindi almeno quello l'hai azzeccato Ok Adesso vediamo se riesci anche a capire esattamente dove sono all'esterno Perché ci sono alberi, c'è la piscina C'è i campatennis, i balconcini, i tetti E c'è tanta roba Quindi comunque non è semplicissimo trovarmi Vabbè vai all'entrata Ok Ci sei? Cancello, cancello giusto? Sì, anzi aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo Devo fare una cosa importantissima Aspetta ti ho visto Ok Oh Romeo, Romeo Perché sei tu Romeo? Sei Cersei, non sei Giulietta Eh non ce l'abbiamo Giulietta Però non sei Giulietta caro mio Romeo, è un matto mio Raggiungimi qui Cioè eri accucciato lì sotto Mettiti la tua skin No ti voglio vedere, voglio vedere com'eri Allora aspetta un attimino Dov'è la mia skin? Voglio vedere tutto Ok Vai Ero qua così Mi vedevo? Cioè ma io non ci credo Ho controllato tutti i balconi dall'altra parte della casa E non ho controllato Ma guarda che è difficile arrivare a questo C'hai fatto caso? Io praticamente sono arrivata fino a questa parte del tetto E poi sei caduta No poi sono caduta perché sinceramente non sono riuscita ad andare avanti Ho detto non sarà lì E quindi ho controllato tutti quelli dietro Ma non ho fatto caso Vabbè Perché ho dovuto fare più sospersi per arrivare qua Comunque primo round vittoria per Steph Sono troppo bravo Dai allora me ne vado qui Nasconditi Spero che mentre mi hai cercato per i tuoi 45 minuti Hai trovato un buon posto dove nasconderti A parte che sono stati 10 minuti massimo E comunque no No sono stati anche 5 secondo me E comunque no perché secondo me ci sono pochi nasconditi Ma non è vero Questo era fantastico Ed è quello che ho trovato il balcone mezzo baggandoti Quindi non è proprio Ma che mezzo baggando? Mi ho fatto preso a spersi a fare Ta 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 E ci sono arrivato È stato tutto volontario e tutto fatto apposta E comunque almeno altri due nascondigli buoni Io li ho visti Ho fatto Steph Ok spero che hai fatto un buon lavoro Fere Sì personalmente mi piace molto Però ogni volta che lo dico mi porto sfiga da sola Perché non mi trovi subito Quindi questa volta non lo dico e facciamo finta di nulla Ok Ok Allora io per ora guardo fuori Perché so che negli interni Secondo me solo con mustaccio fa nascondersi Negli interni anche secondo me solo con mustaccio E per ora non sei ancora un mustaccio Per lo meno credo No dai primi round abbiamo detto che li facciamo normali Ok Sono una persona normale sono la mia skin di sempre Allora In questa zona c'è puzza di fere Quale zona? Che succede Steph? Ehm dove c'è la puzza di fere c'è il vuoto Praticamente c'è il prato ma in realtà cadi se ci vai Ok quindi Ma dove? Sotto sotto la mappa E dimmelo perché se no si casca da lì Aiuto Eh boh vabbè Nel caso cascherei sarà divertente Allora continuiamo a cercare Ho notato del marrone di troppo Non so Magari è la palma eh Certo che è la palma Però io ho notato un po' di marroncino Diverso dal marrone di questa palma Andiamo a controllare meglio Ok ok So io come controllare Anzi aspettate aspettate No non provare a usare armi Steph No ma tranquilla Allora se usi armi non faccio altri round Te lo dico già Perché mai dovrei utilizzare delle armi fere Poi sono un cocco Ehm Come hai fatto a vedermi Se ho gli stessi colori della palma Scusami Ti ho steso fere No ma che scherzi Scusami Comunque stava qui E poi non sei una persona divertente Con cui giocare a nascondino Io te lo dico Sei proprio noioso Trovi le persone subito Mi uccidi con le armi Che non abbiamo detto che si usano le armi Beh scusa Mi vuoi togliere questo divertimento Comunque Vai a nasconderti su Non lo so Si vedeva un po' del tuo marroncino fere Eh però io ho pensato Che avendo dei colori molto simili a quelli della palma Potremmo essere ben cammucati Era una buona idea Era una buona idea Però si vedeva un pochino E ci ho messo tipo 5 minuti Solo per riuscire ad aggrappare Lo immaginavo fere Quello È stato difficilissimo Lo immaginavo Allora io ho pensato ad una cosa molto carina E teoricamente è valida Ok Non lo so Ma porca miseria Non ti posso dire se è valida o meno Stef Allora Non so cosa stai facendo Non esageriamo Ci accontentiamo di qui E va bene così Vai fare missione nascosto Secondo me hai fatto qualcosa di strano Al limite del legale Nelle regole del nascondino Lo so Sì abbastanza Sì 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 dai Devo valutarlo così dai Non è totalmente legale Cioè è valido Però un po' giocare scorretto secondo me Diciamo così Questa è la mia valutazione del mio nascondiglio Però dove ti stai arrampicando esattamente Su una pianta per avere la visione È totale Ok sì ti vedo lì in alto Ce la faccio Ok ce la faccio Ok si è aggrappata Adesso ci sta guardando sotto intorno Stai assolutamente scivolando Steph Non è una buona idea Non è un buon piano Per ritorno al normale Mi sono incastrato dietro la pianta Se passa di lì Mi trova Vediamo cosa stai facendo Eh vediamo Vediamo Mi hai già visto passare Che stai ridacchiando No no tranquilla Come no È solo che stavo esponendo Questo problema è con Solini Che se passi da esattamente un punto Mi vedi di brutto E sono passata Sono un po' preoccupato No no non sei passata Neanche per sbaglio Sei totalmente lontana Da tutti Non è vero Sono molto vicina Vediamo dove ti Sei nascosto Aiuto Ma sei di nuovo Nelle piante dove ero io Non dirmi che hai fatto una cosa del genere No ma secondo te Steph fa una cosa del genere Stai combinando Prima era cattivo Adesso è illegale Proprio Ci metto la firma Sul fatto che è illegale Allora Sono più nella zona Del campo da tennis Piuttosto che della piscina Cioè sono in quelle stradine lì Ok Però più vicino al campo da tennis Che hai fatto scusami Sono aggrappata a questo muro Sì ma allora Io prima Sono passata da qui Ok Mi sono anche messa qui sopra Ho guardato tutto intorno E non ti ho visto Tu mi cambi in nascondiglio E ti fai scovare Eh tanto Io ero qua Fere Dov'eri? Qui Così E tu non mi hai visto Beh perché non ho guardato Qui dietro Eh ma se tu Prima o poi Saresti passata da lì E mi avresti visto Ho fatto Steph Ok Miglior nascondiglio di sempre Ok Bellissima Devi dirmi qualcosa Fere No No Non hai Nessuna cosa da dichiarare No Sicura? Sicurissima Allora Non ho fatto niente di strano Niente di assurdo Non ho cambiato skin Oltretutto Quindi Stai tranquillo Steph Stai tranquillo Allora Consolini ve lo dico io Ha messo mustaccio Non è vero Ok Sei bugiardo Non mi hai visto E se non mi hai visto Non hai le prove Steph Hai le prove Hai fatto una foto Mi hai filmato No Quindi tu non sai Presto avrò le prove Fere Presto le avrò E quando le avrò Sarà alla fine per te No Non le avrai mai Accendiamo anche la torcia Perché la torcia? Perché così vedo meglio Esagerato dai No Fere Devo setacciare tutto Comunque ti dico una cosa C'è mustaccio All'interno di questa mappa Non so perché Sembra una lampadina Ok Illumina di luce propria E quindi non si nasconde bene Esatto Quindi non è che sia Il nascondiglio migliore di sempre Stai cercando scuse Diciamo che anche mustaccio È abbastanza difficile No poi lo vedrai Ok Lo vedrai Qui dentro non c'è Perfetto Stavo controllando dentro il frigo Ho setacciato quasi tutto Te lo dico Ok Sei abbastanza in pericolo Secondo me sì Te lo dici tu Te lo dici tu Ti sei nascosta bene Ti sei nascosta bene Secondo me è solo perché non sei ancora arrivato in sta stanza Potrebbe essere Credo è perché non ho molta visione dal posto in cui sono Ok Diciamo che non so se ci sei o se non ci sei o qualcosa del genere Allora No Ok Qui Secondo me è qua Secondo me è qua In che stanza sei? Descrivi Quella tuta buia Ci avevo pensato Ti dico la verità Ma non sono lì Cioè avevo Volevo fare la lampadina nella scrivania Ma non ce l'ho fatta Ma che idea era? Ho detto che si illumina Se tu quello ho detto Si incastra nella scrivania Sembra una lampadina Ma c'è un limite a tutto Fede E invece non ce l'ho fatta Allora Facciamo un gioco Ok No no io sono entrato nella stanza per tre secondi Quindi La stanza dove secondo me tu sei Quindi praticamente non l'ho esplorata Ok Quale? Non so se Ti voglio fare delle domande Ok Sei sotto letto? No Ok Allora ti dico Ma perché ti devo dire dove sei? La terza cosa secondo me è quella corretta Ok vai Ok Sei dentro l'armadio? Non si può entrare negli armadi Ok Sei in un vaso? No Non sono io Però si illumina Vedi che non è giusto Steph Non è giusto Allora aspetta 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 eh Io lo riprendo Lo riprendo il mio gatto Te l'ho detto che me la tenevo questa arma Te l'ho detto Steph Guarda sono arrabbiatissima Cioè volevo barare con Mustaccio E Mustaccio mi diventa una lampadina Com'è possibile che Mustaccio sia una lampadina? Steph Com'è possibile? Dimmelo Spiegamelo Basta Cambio skin Che bei momenti Non voglio questa skin È troppo buona Allora Mustaccio da ora in po' io lo odio Ma vabbè non c'è di provare Mustaccio non si può odiare Vai al tuo posto Ti risparo col mio gatto Lascia in pace il gatto Povero gatto non c'entrava nulla Oggi se non poteva stare in vacanza No lui è mio alleato È felice di farti fuori Dove mi potrei nascondere? Allora prima di tutto Hai usato Usare Mustaccio prima di me Quindi adesso me la pagherai Punto uno Punto due Adesso trovo il nascondiglio più bello della mappa Che bello Che bello Quanto sono felice di giocare Sei Mustaccio? Sì Ok E se vanno dentro casa Ok buona sapersi Ok Allora Dimmi Tu non dovevi fare una cosa nella vita Combinarmi Mustaccio al parkour Perché succedono cose brutte Fere Dici? Mhm Dici che succedono cose brutte Sì sì ho fatto una cosa terribile Allora però Mustaccio è molto visibile Quindi anche se ti sei nascosto in alto Tecnicamente A meno che non sei buggato da qualche parte Ti dovresti vedere No purtroppo non sono troppo buggato Infatti Hai fatto la lampadina nel soffitto? No no Non sono stato così bravo Però quasi diciamo È comunque Una buona roba Dai vediamo se riesci a trovarmi Io sono super soddisfatto Oh Fere è ancora il gatto Allora sei Non mi può colpire Non ti posso colpire Ciao Mi dispiace Come va? Non ha funzionato molto bene Te l'ho detto che si illumina Guarda come ho fatto però Dimmi che non era arte pura eh Guarda eh Vai 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 E ta No bellissimo Vero? Guarda se avessi dei colori più opachi Secondo me Si potrebbe anche mimetizzare molto molto bene Con i colori scuri dell'armadio Purtroppo però non è così E quindi Mustaccia viene fregata Bene ragazzi Se vi è scusato Se vi è scusato Diciamo un like E per la prima volta che avete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao